Musica Benvenuti all'appuntamento con Buonasera Marche, ospite di questa puntata è il direttore artistico del Macerata Opera Festival Francesco Micheli Ben trovati, grazie dell'invito Iniziamo dal tema della prossima stagione lirica, questo tema ha scelto l'Oriente con le atmosfere di Turandò, Madame Butterfly e Aida Perché questo tema e quale significato declinato all'interno delle singole opere? Ma da un lato abbiamo raschiato il barile perché in questi cinque anni abbiamo davvero esplorato a modo nostro Quindi con uno sguardo curioso, attento, moderno le grandi opere del repertorio E ci rimanevano i due grandi capolavori di Giacomo Puccini, di quelli insomma del mainstream cosiddetto Non affrontate mai finora, vuoi perché Turandò è veramente un'opera molto impegnativa E Butterfly perché invece al contrario è un'opera molto intimista E allora il timore che non fosse dato allo sferisterio c'era Ma poi grazie al nome tutelare di Matteo Ricci ci sembrava tempo In questo triennio delle mappe dell'anima inaugurato nel 15 con la stagione dedicata a Expo Nel 16 al Mediterraneo Era tempo davvero di partire per l'Oriente E quindi oltre a questo abbiamo detto anche con l'opera di Gata Padre Matteo Ricci Che è anche una produzione quindi del Macerata Opera Festival E perché scegliere questa figura e soprattutto quale aspetto di Padre Matteo Ricci verrà evidenziato nell'opera Questa figura insomma che rappresenta veramente una figura simbolo di ponte tra Oriente e Occidente E davvero era tempo che noi tornassimo a produrre, a commissionare nuovi lavori Lo spazio dell'Auro Rossi è perfetto perché è meraviglioso e intimo E ci permette di dedicarci al teatro musicale da camera dove pochi cantanti, pochi musicisti Tra l'altro l'opera sul libretto di Cecilia Ligorio e su musica di Carlo Boccadoro Che è maceratese, in realtà è artisticamente cresciuto a Milano Però anche lui torna a casa Ha sviluppato una partitura che davvero rende appassionante la figura di Matteo Non solo come intellettuale, come uomo di fede, come grandissimo ponte culturale Ma anche proprio come persona, è un po' quello che fa l'opera lirica Ci avvicina figure del passato magari anche mai esistite ma emblematiche Perché compiono azioni davvero fuori dal comune ma poi sono anche grandi uomini e grandi donne E nel caso di Matteo Ricci davvero questo è stupefacente Basti pensare che forse il suo scritto più significativo è il di amicizia E scriverlo in Cina alla fine del XVI secolo non è scontato Perché l'amicizia tra un maceratese e l'imperatore o in generale la comunità pechinese Che ospita la sua salma unica dentro la città proibita Unico occidentale, unico non cinese Fa capire quanto si possa fare e quanto lui ha fatto Proprio per la vicinanza delle culture e dei popoli E in questo momento ne abbiamo davvero bisogno Abbiamo intervistato sia il librettista Rigorio che il compositore E loro hanno detto che in realtà prima di lavorare a questa opera Non conoscevano padre Matteo Ricci Che hanno fatto ovviamente uno studio, un percorso E quindi hanno scoperto tanti aspetti di questo gesuita Di questa grande figura scienziata Quindi anche in collaborazione con l'Istituto Confucio di Macerata Quindi anche che tipo di opportunità potrebbe essere per Macerata Dopo questo appuntamento con la stagione lirica Di far girare questo lavoro Beh ci auguriamo che veramente accada Cioè che da qui Si faccia Si faccia Brava la she in cinese vuol dire proprio questo Quindi c'è l'auspicio di una lunga vita a questo lavoro E poi è proprio il potere che ha l'opera lirica Di rendere comunicativi personaggi Che altrimenti il mondo reale metterebbe un po' al margine E questo vale sicuramente per la collega giapponese Giapponese madama bat fra una ragazzina di 15 anni Una geisha che muore per amore Ecco chi ricorderebbe nella vita quotidiana La vicenda di una ragazza così anche un po' imbarazzante Altrettanto la figura di Matteo Ricci In questo periodo girando per le scuole superiori del territorio Mi rendo conto di quanto sia opaca Molti proprio non hanno idea di chi sia E chi lo sa ce l'ha in mente come un santino Quindi una figura un po' impolverata Lontana invece è stato veramente un grande uomo Di grandissima modernità Scoprirlo grazie alla presenza dell'Istituto Confucio Che a Macerata è davvero un faro di cultura Ci ha permesso di avvicinarlo La teatralità di Cecilia Librettista e regista dello spettacolo Che tra l'altro sta lavorando in maniera incredibile Con l'Accademia di Belle Arti di Macerata Così facendo un doppio lavoro Da un lato si tira fuori la modernità di questo uomo Lavorando con gli scenografi e costumisti giovanissimi E quindi che hanno una curiosità Un gusto moderno E nel contempo li avvicini a un personaggio Che altrimenti non conoscerebbero Quindi confidiamo che questo vivaio Genere uno spettacolo di grande interesse Che quindi non muoia qui a Macerata Ma come il suo protagonista giri il mondo Cerchiamo di capire un po' come vanno anche i lavori Mancano 60 giorni quasi All'inizio la stagione lirica E come stanno andando anche le prove, gli appuntamenti? Ma ormai abbiamo condiviso da qualche settimana Tutti i progetti d'allestimento Butterfly era nota Perché è una coproduzione importante Prestigiosa col Teatro Massimo di Palermo Dove l'opera, dove lo spettacolo ha debuttato a Palermo appunto a ottobre Però come accade in queste coproduzioni È talmente particolare lo spazio delle osferi stereo Che se la coproduzione ci permette di ammortizzare i costi Poi ricollocarla qua Fa sì che lo spettacolo sia completamente diverso Ed è bellissimo vedere come la Butterfly Pensata dal team creativo capitanato da Nicola Berloffa Ricrea una vera e propria gigantesca casa d'appuntamenti Giapponese, tradizionale Una casa di geisce Che però nel secondo atto Con l'invasione degli americani Nell'opera Pinkerton Nella realtà L'invasione politica, militare Degli statunitensi nella seconda guerra mondiale Diventa un grande cinema Una casa d'appuntamenti Quindi come dire Si sporca, si involgarisce E questa è una bellissima metafora Di come molte culture tradizionali Nel corso del ventesimo secolo Sono state bruciate Come le ali di farfalla di Butterfly In mente Turandot Beh, è un grande appuntamento che aspettiamo con ansia Perché Ricciforte, questo binomio creativo C'è molta curiosità su questa regia anche Eh sì, perché poi gli spettacoli di Stefano e Gianni Nella prosa, nel teatro di ricerca Sono dirompenti Hanno saputo tirar fuori una violenza incredibile Dalla vita contemporanea E francamente Nell'opera di Giacomo Puccini E dei librettisti Simone e Adami Simone e Adami sono veramente È una vicenda davvero fiabesca Ma una fiaba crudele E devo dire L'ambientazione favolistica, sì Per cui il mondo di Turandot Alla lettera interpretato da Ricciforte È un mondo di gelo È come una fiaba di Andersen In cui Turandot è una regina delle nevi Che surgela la vita Per preservarla in eternità Però diventa nel contempo Un meraviglioso cocktail party anni 50 Dove il coro Come dire Replica figure affascinanti Tipo Grace Kelly in un film di Hitchcock Quindi è veramente Penso l'effetto di straniamento e di fascino Che nel 1924 Quando l'opera fu scritta Esercitò sul pubblico di allora Che oggi, secondo me Ricciforti, interpreti dell'immaginario contemporaneo Sapranno restituire Con candore e ferocia Nel palco dello Sferisterio Invece l'Aida Insomma Una produzione Un lavoro tuo Come regista Qui allo Sferisterio Che viene riproposta Che effetto ti fa? Insomma che cosa? Guarda io devo tollerare questo regista Michele Un pessimo Un raccomandato soprattutto No, devo dire Sono contento Fa strano Perché ovviamente Quando Quando Debutò nel 2014 Il titolo Per il 50 anni Dello Sferisterio Ero al mio terzo anno In fondo insomma Non che adesso Sono solo Sesso anno Poi ne parli Esatto Però insomma Avevo molta paura Per fortuna Lo spettacolo piacque molto Registrò soldato Recensioni molto belle Laddove tutti erano lì Col forcone Voglio dire Giustamente Uno si espone Quindi Si espone fino in fondo Però paradossalmente Riproporlo Mi carica ancora più Di ansia Di aspettativa Anche perché è una ripresa C'è meno tempo I ritmi di produzione Sono spietati Però Tra l'altro lo spettacolo Andrà a Bologna A ottobre e novembre Visto che ne è uno Dei coproduttori Ed è davvero Quella è stata la prima Produzione Della mia gestione Allo sferisterio Che ha visto Altri teatri italiani E stranieri Pensate a Peralada L'anno scorso Con Otello Con cui coproduciamo Quindi insomma Spero che La stella fortunata Che brillò Nel cinquantenario Del quattordici Anche in questa Enesima stagione Torni a rifulgere Quindi ecco A parte Casse e cartellone Ovviamente Ecco troverete tutto Nei siti Appuntamenti Insomma quant'altro Approfitto di questa intervista Con Micheli Qui presente Per parlare Di altro Di cose non scritte Quindi magari anche Fare Alcune riflessioni Su questi sei anni Di Francesco Micheli Come direttore artistico Dello sferisterio Quali Novità ha portato Tanti cambiamenti Direi Forse Insomma facendo No Nel senso A cominciare Ecco innanzitutto Da un'apertura Dello sferisterio Che diciamo Per oltre 40 anni È stata quasi Con un target D'elite Poco più Che oltre i 100 consorti Quasi E invece quindi È dintorni E già questo È stato Un segno forte Di cambiamento Che Micheli Ha portato Incontrando i giovani Nelle scuole Andando a parlare Anche con le realtà I partner I partner Dello sferisterio Quindi un primo Grande cambiamento Sotto questo profilo A sei anni Di distanza Che tipo di lavoro Pensi di aver fatto Beh L'hai ben descritto L'opera In realtà È un lavoro tradizionale Cioè L'opera lirica Da un lato Nasce come forma D'arte Che dalla corte Fiorentina Esce poi A coinvolgere L'intera popolazione Riuscendo davvero Ad avvincere Quindi questa elitarietà Che giustamente Hai ben detto Non 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 rende giustizia Al melodramma E in particolar modo Allo sferisterio Che non è Nasce come teatro D'opera Ma nasce come Grande monumento Per attività sportiva E quindi di grandissimo Coinvolgimento Del territorio Ecco Dallo sferisterio Questo lavoro Di apertura delle porte Della città proibita Era necessario E infatti Come dire Ho scoperto l'acqua calda La popolazione Il territorio Non ho risposto E quindi Com'è una curiosità Diciamo Interagire anche Con chi resta Dei cento consorti E i nuovi consorti La nuova associazione Anche Amici dello sferisterio È bellissimo Perché vedi proprio Come Insomma Queste semine Hanno dei tempi lunghi Di maturazione Vedere dopo soli Sei anni Perché A sei anni Noi siamo bambini E invece È già una bella adolescente Che sgambetta Vedere come Non so La notte dell'opera Ormai viaggia quasi in autonomia È nata spontaneamente Un'associazione autonoma Che è quella Degli amici dello sferisterio I contributi I cento consorti Che in progetti di fundraising Dove teatri anche Ben più prestigiosi E importanti E ricchi del nostro In Italia Hanno fallito Vedere come invece Prospera Non ci sono liste d'attesa Per poter donare Insomma Dà l'idea Di un rapporto Un rapporto molto bello Felice Fertile Tra il teatro E il territorio E lo conferma il fatto Che ormai siamo Un teatro più privato Che pubblico Perché tra biglietteria E sponsor Il budget complessivo Di produzione È È maggiormente Proveniente Da lì Che non dal contributo Istituzionale Che è In calo Costante Dal 2011 In poi Quindi Infatti Apprezzo molto Lo sforzo Che il nostro Presidente Romano Carancini E il sovrintendente Luciano Messi Stanno facendo Con un sensibile Presidente della regione Ceriscioli Proprio perché La regione Insomma Gli enti pubblici Tornino a essere Maggiormente presenti Perché il segnale Di calo costante Del contributo È preoccupante Dall'idea Che lo sferisterio Non interessi Invece Io confido Che sia così Insomma La scelta Anche di riuscire A fare Diciamo Di necessità Virtù Perché comunque Come dicevi Tra la crisi In generale Economica Poi anche Diciamo A livello Di tagli Alla cultura Riforma Delle province Camere di commercio Se mettiamo Anche sul territorio La crisi di Banca Marche Che è stato sempre Un grande partner Quindi Tagli su tagli Qualche momento Insomma Un po' più di sconforto Ce l'è avuto Però Al di là di Di aver trovato Sempre soluzioni Diciamo Per poter Comunque Andare avanti E far bene Eh sì Devo dire Anzi Mi dispiace dirlo Ma proprio perché Questi problemi Che dici Per cui è chiaro Che non c'è una strategia Anzi Io sento Molto vicine Le istituzioni Però di fatto Proprio l'elenco dettagliato Che hai fatto Di interlocutori Così significativi Per lo sferisterio E che vengono Sempre meno Mi sta Scoraggiando Perché Come dire Il festival Scoppia di salute Quindi sarebbe Opportuno Che Come dire Si potesse Fare il balzo E' anche vero Che tutti coloro Che si avvicinano Aiutano lo sferisterio Forse sono ora Veramente Che credono Nello sferisterio Magari i contributi Che arrivano Solo dall'alto Questa è una forza Alla fine Importante Come dicevi prima Di un lavoro Che è stato Preparato E anche seminato Sì sì E questo forse Resterà anche Per i prossimi anni Lo confido Anche al di là di me Cioè Credo Credo che la miglior bontà Del mio lavoro Si verificherà Soprattutto quando io Me ne andrò Perché è sbagliato Personalizzare Il lavoro In un singolo individuo Lo sferisterio C'era da molto prima di me Un'istituzione gloriosa Un bellissimo monumento E continuerà a vivere A prosperare Anche dopo di me E c'è da augurarsi Che se la ricetta Era buona Cioè non è che Il tiramisù Lo fa bene solo mia mamma Vale in sé Poi certo Se proprio sbagli tutto Fa schifo Però Se minimamente Ti attieni Ed esalti Le caratteristiche Degli ingredienti Viene una cosa buona Adesso È il momento Di fare il salto Come dire Nel rendere specifico Il repertorio Dello sferisterio Cioè opere Che non si vedono altrove Fatte Con un teatro di regia Con degli interpreti Interessanti E soprattutto Ripuntare Sull'internazionalizzazione Perché Ormai Il pubblico Per il 30-40% È di stranieri E lo è E questo è anche la scelta Di padre Matteo Ricci Beh certo Sì sì Beh in generale Perché il tema Il tema del rapporto Col mondo Altro È di scottantissima Attualità E poi proprio perché Vogliamo far conoscere Le meraviglie Della nostra nazione A maggior ragione Del territorio E Matteo Ricci È davvero Il nostro Uno dei nostri Il nostro Nume tutelare Maceratese Marchigiano Quindi il mondo Lo deve conoscere E perciò È importante Che le istituzioni Ci credano E ci permettano Di fare la promozione Internazionale Di cui abbiamo bisogno Quindi ecco la domanda mia Era anche sulla sfida Capire ora le sfide future Queste qui Che è appena detto Cioè c'è questa fase matura Dopo questo primo lavoro Per poter fare il salto Sì Sì guarda Per esempio Pochi giorni fa C'è stata La consegna degli Oscar Dell'opera lirica A Londra E Io dirigo anche La fondazione Donizetti Da un paio d'anni E la fondazione Donizetti Era in finale Per la categoria Delle nuove riscoperte Con un'opera Olivo e Pasquale Che abbiamo fatto l'anno scorso Ma c'è la troppa Opera Festival Non c'era Non c'è mai stato Ed è tempo Ma per semplicemente Perché non siamo Abbastanza conosciuti all'estero Ed è tempo invece Che il mondo ci conosca È un altro aspetto Che vorrei sottolineare Del lavoro Che è stato svolto Già in precedenza Sia insomma un po' Abbiamo detto L'Istituto Confucio Ma anche l'Accademia di Belle Arti Hanno collaborato Con il Macerato Opera Festival Però la differenza Forse è che spesso È stata vista Come un modo Per risparmiare Su altre risorse Mentre la tua attenzione La tua sensibilità È stata anche quella Di cercare comunque Di creare Quel valore aggiunto Che magari Se non è su un piano economico Però resta Pensare anche A creare nuove figure Magari nuove opportunità Per i giovani Che amano questo settore Esattamente Quello che tu dici Accade Se tu Prendi dei giovani Delle realtà Di formazione E le tratti Esattamente come Tratti i professionisti Cioè Io ti do un titolo Ci vediamo tra sei mesi Mi presenti il progetto E poi io lo metto in scena No Però se invece Utilizzi La tua esperienza Le persone che hai Professionisti Che tra l'altro Spesso mi viene in mente Simonetta Palmucci La nostra responsabile Sartoria Che è anche un incredibile Insegnante Qui all'istituto d'arte Di Macerata Quindi se metti insieme Le professionalità Dello sferisterio In ottica formativa Quindi adattando I ritmi Della produzione Professionale A quelli Della pedagogia Beh tu crei Un laboratorio Un brodo di cultura Che poi tira fuori I grandi talenti Permette ai giovani Di formarsi Accanto a dei modelli Che sono Dei professionisti E noi Dell'istituzione Facciamo un bellissimo Corso d'aggiornamento Perché comunque Il mondo dell'opera È in crisi Anche perché è diventato Un covo Di reazionari Tradizionalisti Che si scandalizzano Molto più Dei preti Che quando fanno Una messa O commissionano Delle opere Cioè guarda Quest'opera Su Matteo Ricci È estremamente Contemporanea Ed è questo Che deve riuscire A fare il teatro E deve rinnovare Le forme Con cui esprime I propri contenuti Questo hanno fatto Donizetti Verdi Puccini Che erano Dei giovani Dirompenti Che sono stati Fischiatissimi Proprio perché Quello che proponevano Era rivoluzionario E noi dobbiamo Essere all'altezza Di quella rivoluzione Non fare il museo Che amuffisce E quindi Questo tra l'altro E ce lo siamo dimenticati Era nella vocazione Degli anni Come dire Più intriganti Primaverili Della stagione Lirica Allo Sferisterio Un manifesto degli anni 80 Della stagione Lirica Allo Sferisterio Che era Macerata Palcoscenico Giovane D'Europa Dobbiamo tornare A essere quello E credo che Lo stiamo facendo Mi viene in mente Il piccolo spazzacabino Fatto nel 2013 Con Eni Brocause E le scene e i costumi Firmate dagli studenti Che però Avevano Tra i loro docenti Manco a farlo opposta Proprio I collaboratori Penso a Benito Leonori Ai collaboratori Di Enig stesso E il risultato È stato uno spettacolo Di cui tutta Italia E la critica Non solo nazionale Hanno parlato E il contratto Dopo sei anni Scadenza Mi sembra Per Francesco Micheli Già Insomma Cosa pensi Per il futuro Continuerà la tua collaborazione Con il Maggiore Io vorrei Vorrei Non lasciare mai Questa terra Nessuno è indispensabile E quindi E anzi È importante Capire il futuro Io è da un anno Che lavoro Su un progetto Per il nuovo triennio Che poi lo faccia io O no Non importa L'importante Voglio dire Qualche anticipazione Di questo progetto Un po' Ti ho detto Cioè Ormai abbiamo fatto Il giro Dei titoli di repertorio E non ha più senso A meno che non arrivi Qualcun altro Rifare una nuova Tosca Rifare una nuova Bohème Quelle ci sono Io ci credo Sono figli miei E dei registi E degli artisti Che ho chiamato a fare Quindi bisogna fare Titoli nuovi E credo che la specializzazione Dello Sferi Stereo Possa essere Il repertorio italiano Perché non ha senso Visto che puntiamo A un pubblico internazionale Fare un flauto magico O un Faust Tedeschi e francesi Quando il nostro pubblico Tedesco e francese Si rivede benissimo A casa sua Sicuramente fatti meglio Che qua Visto che la lingua La parlano Noi siamo italiani Abbiamo inventato La forma linguistica Più diffusa al mondo Di conseguenza Come possiamo fare noi Certi titoli Che magari Nei teatri Tradizionali Nei teatri correnti Invernali Girano poco In questa cornice In questa cornice incredibile Possono essere Veramente degli spettacoli Meravigliosi Penso al Mephistofele Fatto allo Sferi Stereo Con Cesare Siepi Potrebbe essere Un titolo Di grande Grandissimo interesse E continuare Con ancora Più convinzione Nella sperimentazione Dell'arte lirica Il mio grande amico E collega Damiano Micheletto È che Il più grande Giovane Ormai Un'ultra quarantenne È uno dei più grandi Registi al mondo Ed è italiano Vorrebbe venire qua A fare dei progetti Sicuramente Di grande interesse Hai dato tanto A Macerata In questi anni Macerata Che ti ha dato? Cosa hai scoperto Da questa città Hai fatto tuo? Beh Questo lavoro Perché ricordo Che il mio mestiere principale Resta quello del regista Però Mi ha permesso In un vero e proprio Laboratorio di ricerca E quindi Questo vorrei che fosse presente Cioè io sono arrivato qua Inventandomi una professione E Avendo la possibilità Di sperimentarla Avendo a che fare Con persone Con un territorio Protetto In fondo Ma ricco di stimoli Mi ha regalato L'affetto E l'intelligenza Di tante persone E quindi Spero di poterlo restituire Questo Nel futuro Quindi Spero che Ancora Anche se non è facile La mia storia Continui a percorrere Queste strade Ultima riflessione Poi chiudiamo Oltre Ecco Hai fatto molto Nelle scuole tra i giovani Ma Una terra Ecco come Macerata Con lo sferisterio Con lo sferisterio E anche altre eccellenze Culturali Ha anche bisogno Di luoghi di formazione Legati proprio anche Alla lirica Anche Esperti Diciamo anche musicali Figure che magari Io c'era già C'era già una splendida Collaborazione in atto Tra Accademia di Belle Arti E sferisterio Ma su altri ambiti Per esempio La formazione del cantante Voglio dire Noi abbiamo cantanti Di primissima grandezza Che vengono A prestare la loro arte Allo sferisterio Infatti Già naturalmente Ho visto in questi anni Artisti che nomino Perché torneranno Come Sonia Ganassi Anna Pirozzi Roberto Frontali Venivano inseguiti Da giovani cantanti Che sapendo Questi grandi artisti Stare qua Per due mesi E non impegnati A tempo pieno Cercavano Da parte loro Delle lezioni Delle masterclass E allora Già da quest'anno Vorremmo riuscire A organizzarle Per dare il via A una vera Proprio Accademia di canto Estiva Alleandoci Perché come al solito Non è che bisogna Bisogna inventare tutto da zero Alleandoci con realtà Importanti Che ci sono Nel nostro territorio Dall'Accademia di Osimo Alla scuola di musica Beniamino Gigli Con Re Canati C'è un progetto Di interazione Molto forte E poi per esempio Stando a Venezia Dove io ho fatto La regia Della Lucia di Lamermur E dove una delle due Interpreti Era Susana Marcovà Incredibile soprano Ceco Ma Moglie Di Giacomo Sagripanti Che io conoscevo Come un giovane Direttore d'orchestra Straordinario Salvo poi scoprire A Venezia Che è di fermo E siccome Nemo Profeta Ho dovuto saperlo Scoprirlo A Venezia Tramite la sua moglie Cecoslovacca Quindi Giacomo per esempio Sarebbe un grandissimo Artista Veramente di primissima Grandezza Lui ormai Nonostante credo Non abbia Anzi 35 anni Credo abbia Lavoro in tutti I più grandi teatri Al mondo Ha lavorato anche A Pesaro Ed è tempo Che venga qua Mi piacerebbe A portare Il suo talento Grazie davvero A Francesco Micheli Per questa intervista Quindi Appuntamento Anche prima Della stagione Edica Però ricordiamo Insomma Si parte il 20 luglio Però insomma Seguiremo Le varie tappe Di avvicinamento Grazie Facciamo un reality Noi ci siamo Grazie a voi Grazie Per averci seguito Buon proseguimento Con i nostri programmi